Futuriamo rappresenta un'occasione importante per la nostra comunità, per tutte le associazioni del territorio di Forte dei Marmi per presentare le loro attività e per cercare anche di attirare nuovi interessi e nuove persone che si avvicinino alle loro iniziative. Il comune di Forte dei Marmi con l'assessorato alla cultura ha diversi punti di riferimento e in particolare quello dedicato agli spettacoli per i bambini con Coquerico che qua vediamo lo stand all'interno del parco giochi davanti al comune. Quest'anno abbiamo sviluppato un programma, il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, di rappresentazioni teatrali per i bambini e per le famiglie. Già come gli scorsi anni, quando abbiamo registrato un ottimo successo di pubblico, direi anche di critica perché gli spettacoli sono rappresentati da compagnie teatrali che ottengono grandi riconoscimenti in festival, manifestazioni a livello nazionale e non solo. La direzione artistica di Coquerico garantisce sempre un elevato standard qualitativo, quindi un'ottima offerta per i bambini e per le famiglie durante l'inverno perché vogliamo e intendiamo dare una continuità all'offerta culturale di intrattenimento dedicata soprattutto ai bambini e alle famiglie sia nel periodo estivo che in quello invernale. La continuità si vede dal programma che è molto ricco perché presenta tre sabati e cinque domeniche nel corso dell'inverno. Inoltre la novità di quest'anno sarà che prima degli spettacoli teatrali ci saranno proprio dei laboratori tematici per i bambini. Ed inoltre lo stesso programma poi sarà rivolto anche alle scuole con gli alunni e l'istituto comprensivo e gli spettacoli che si svolgeranno all'interno dell'auditorium delle scuole medie. Noi siamo molto contenti di questo spazio che viene dato al teatro perché sicuramente crescere con il teatro è qualcosa di molto importante anche perché è un teatro dedicato a tutta la famiglia quindi i bambini sono sia spettatori ma anche accompagnatori degli stessi genitori perché magari hanno visto lo spettacolo o lo stesso o altri spettacoli nell'ambito della rassegna scolastica e quindi sono un po' da apripista per i genitori sulla fruizione del teatro domenicale o del sabato pomeriggio.